Cari telespettatori, buona giornata. Anche oggi appuntamento con i valori minimi e i valori massimi, segno per segno. Ariete, ampie schiarite, la vostra giornata inizierà in maniera molto grintosa grazie alla benevola presenza della Luna. L'atmosfera intorno a voi è molto positiva e tutti i rapporti interpersonali si distendono e si approfondiscono sempre più intensamente. Nel cielo del toro, fitte e nubi, sono Venere e Marte, pianeti dell'amore e della passione a causarvi problemi in questo momento. Entrambi, infatti, si trovano in posizione dissonante e non vi permettono di vivere serenamente le vostre emozioni. Per i gemelli si prospetta una giornata calda e mite. Siete pronti ad impegnarvi seriamente, sia in amore che sul lavoro, ed oggi avrete la possibilità di dimostrare a tutti che non avete più voglia di scherzare, che state davvero maturando. Per il cancro, temporali sparsi. Oggi non sarà bene farvi osservazioni troppo pungenti, perché potreste reagire con una stizza veramente esagerata. Tenete un po' a freno la vostra eccessiva permalosità, che oggi raggiungerà i livelli di guardia. Leone, uragano, la vostra vitalità quest'oggi sarà davvero prorompente. Stimolati e sostenuti dalla vivace presenza della Luna, nel vostro segno siete pronti a spiccare il volo verso una nuova serie di avventure entusiasmanti. Per la Vergine, alta pressione. Venere fa sentire i suoi influssi positivi per l'amore, soprattutto se siete nati alla fine di agosto. Il vostro fuoco interiore ha cominciato ad ardere e sappiate che ormai è troppo tardi per tentare di spegnerlo. Bilancia, nebbia. Potreste essere accusati di aver fatto retromarcia relativamente ad una promessa importante. Cercate di analizzare a fondo il vostro comportamento per capire se sia vero. Per lo Scorpione, invece, è Mari Mossi. Dovrete imporvi di rimanere calmi oggi, perché se lasciaste via libera i vostri impulsi, vi caccereste in situazioni complicate e imbarazzanti. Purtroppo la quadratura di Marte metterà in luce oggi i tratti più aggressivi del vostro carattere. Per il Sagittario, giornata variabile. Al punto in cui vi trovate in alcuni affari dovreste forse ricorrere al consiglio di un esperto, anche se per il momento è prematuro pensare di giungere alle vie legali, ma le cose si metteranno velocemente a vostro favore. Capricorno per questa giornata a Piovaschi. La vita in famiglia oggi potrebbe purtroppo non essere del tutto armoniosa. L'aspetto dissonante di Mercurio può portare a qualche battibecco di troppo. Fate voi il primo passo verso la riappacificazione, anche rinunciando al vostro orgoglio. Per l'acquario si prevede una giornata di sole. Chi vi sta attorno, sia nel campo lavorativo che sentimentale, vi scoprirà brillanti, attenti ai dettagli, affidabili. Evitate però di fare troppo ai perfezionisti o risulterete antipatici. Per i pesci il clima è sereno. Nel vostro ambiente lavorativo godrete oggi di notevoli simpatie e pertanto potete permettervi certe libertà, ma non dovete ovviamente abusarne se volete che questa simpatia si prolunghi veramente nel tempo. Il nostro appuntamento termina qui, ma torna naturalmente puntuale domani mattina. Io vi aspetto e vi lascio in compagnia dei nostri programmi. Buona giornata.